118. Sono neonato, un bambino di 50 giorni, non respira più. Sapete fare un nome di sostruzione? No, no, non so fare niente. Lo tenete possibilmente in alto, va bene? Non lo tenete stesso, tenetelo alto. Una telefonata da cuore in gola, quella ricevuta giovedì sera dal 118 ad Arezzo. Dall'altra parte della cornetta un giovane padre a chiedere aiuto disperatamente per il proprio figlio di appena 8 mesi che stava soffocando. Secondi che valgono una vita. Con lucidità l'operatore ha dato indicazione al genitore del primo soccorso mentre un'ambulanza correva già in zona via Marconi, in pieno centro. Ci è arrivata questa telefonata, telefonata molto concitata perché sono momenti altamente emotivi. Di questo papà che ha visto il bambino diventare completamente violaceo con schiuma alla bocca. Il bambino era ancora in grossa difficoltà respiratoria, era completamente ancora cianotico, aveva una respirazione non valida, quindi abbiamo proseguito con le manovre, lo abbiamo aspirato e poi trasportato in ospedale. L'allarme è scattato alle 21.45 quando il bimbo, raffreddato, ha avuto un rigurgito di latte che le ha bloccato le vie respiratorie. Subito la chiamata, la freddezza dell'operatore e il coraggio di un babbo hanno evitato il peggio. State al telefono, non agitatevi perché chi sta dall'altra parte vi può solamente aiutare. Quindi la tranquillità e la calma risolvono le situazioni, l'arrabbiarsi e essere agitati non risolve assolutamente niente. Sì, stanno arrivando. Sì, sì, stanno già arrivando. Comunque sento che il bambino si sta lamentando, quindi questa è una cosa buona, d'accordo? Sì. Sì.